Il messaggio chiaro è che il progetto è un progetto inutile e dannoso. Un messaggio chiaro contro la realizzazione di quest'opera e per come è progettata e per quello che sappiamo oggi. I tempi stringono. In Commissione Affari Esteri è depositato il disegno di legge per la ratifica dell'accordo con Grecia e Albania. Ogni decisione va presa prima che sia troppo tardi, ha sottolineato il senatore Maurizio Buccarella. In gioco non c'è solo il futuro ambientale della costa salentina ma anche quello economico e quello legato alla salute dei cittadini. Questo decreto è un decreto di ratifica di un trattato trilaterale fra Albania e Grecia e Italia che prevede che anche il Parlamento approvi questo trattato. Noi su questo punto specifico dovremmo invitare le altre forze politiche cui esponenti locali negli ultimi giorni, soprattutto mi sembra delle ultime settimane, stanno prendendo una posizione chiara e netta contro la TAP a San Foca di far pressione presso le proprie segreterie partitiche perché quel messaggio che rappresenta la volontà del territorio salentino sia presente anche a Roma, magari insieme alla voce del Movimento 5 Stelle che coerentemente, senza avere difficoltà a doversi raccordare con strutture nazionali, è chiaro nel suo dire no a questa TAP.